I migliori libri per freelance. Quali sono le letture che non devono mancare nella vostra libreria se lavorate per conto vostro come indipendenti ma perché no se lavorate punto e basta. In questo video vediamo quali sono quei libri indispensabili che possono davvero migliorare la vostra vita di lavoratori e lavoratrici. Lo facciamo con questa signora Deborah Montoli. Ciao Deborah. Ciao ciao a tutte e a tutti che state guardando questo video. È un piacere essere qui. Grazie Andrea. E questo video è l'ultima puntata, la quinta e ultima puntata di una piccola serie gratuita che abbiamo realizzato su questo canale durante la quale stiamo provando ad accompagnare le persone nel diventare freelance. Sono delle lezioni introduttive un po' propedeutiche alla nostra masterclass. Lavora come un drago che ha proprio lo scopo di prendere le persone che in questo momento lavorano magari come dipendenti ma non sono soddisfatte, che stanno costruendo il loro percorso lavorativo indipendente oppure che già lo hanno avviato ma vogliono migliorarlo da un punto di vista strategico e organizzativo. Insomma prendere tutte queste persone e cercare di aiutarle con quella che è la nostra esperienza lavorativa con i trucchi e le strategie che noi abbiamo imparato in questi anni. Trovate comunque più informazioni sulla masterclass nella descrizione del video oppure alla fine di questo stesso video insomma vi raccontiamo qualche dettaglio in più se pensate di poter essere interessati o interessate ma una cosa che sicuramente vi raccontiamo tra pochissimi secondi con l'aiuto di Deborah sono i cinque libri che davvero non potete perdervi per lavorare meglio. E allora da dove cominciamo Deborah? Il primo libro riguarda un tema molto importante per i freelance ma non solo che è il tempo. Quindi come fare per avere più tempo? Allora in realtà il titolo sembra molto da manuale ma è più legato a una riflessione proprio sul tempo perché è importante capire qual è la problematica che viviamo attraverso il tempo e come quindi sfruttarlo al meglio. I punti più rilevanti che abbiamo rilevato da questo video sono questi naturalmente che è un'estrema sintesi però riguarda diciamo l'importanza di allontanarsi da tutti quei trucchi che cercano di sfruttare appieno le giornate. Questo perché il rischio è quello magari di fare ma di continuare a fare in maniera insensata solo immersi nell'operatività. Quindi c'è proprio un approccio mentale diverso da usare nei confronti del tempo senza rischiare di continuare a fare in proiezione del futuro e dimenticandosi completamente di tutto quello che ci sta intorno e di quindi selezionare anche rispetto alle priorità, al valore che poi effettivamente arriva dalle cose che riusciamo a portare a termine. C'è una bellissima massima che viene riportata in questo libro e che riguarda la comprensione di non riuscire mai ad avere tutto sotto controllo. Le email saranno sempre da leggere, le attività si accumuleranno, le richieste arriveranno e non saranno ancora gestite ma questa è un'ottima notizia perché ci toglie dalle spalle tutto quel sovraccarico di dover gestire per forza ogni cosa e quindi c'è proprio tutta la riflessione sul tempo che è molto importante, che si ricollega per certi versi a un altro video che abbiamo fatto in precedenza, che dicevi proprio sul filo d'erba che proprio più o meno è legato a questo approccio ed è un libro che merita di essere letto secondo me in qualsiasi percorso, fase del percorso ci troviamo. Ogni cosa andrebbe valutata rispetto alla domanda ne vale la pena? Cioè questa cosa qui la sto facendo perché ormai sono nel vortice, nella ruota del criceto oppure qualcosa di davvero rilevante rispetto al mio lavoro? E soprattutto abbiamo già sentito il consiglio di dire di no, imparare a dire di no, ma è facile rifiutare le cose che non vogliamo fare, che magari ci interessano meno, ma quello che è importante imparare a fare è dire di no alle cose che ci piacciono perché non possiamo fare tutto, il tempo è finito e questa è un'altra massima che arriva da questo libro. Un po' come l'esempio di fuotare le piante, quando tagli dei rami, tagli i rami secchi e quello è facile, cioè sono secchi, sono morti, li tagli, ma a volte vanno tagliati anche i rami verdi, quindi bisogna imparare a lasciare andare anche quello che in realtà vorremmo portare avanti, quindi questo è un po' il concetto del libro, veramente veramente bello. Infatti è il primo che abbiamo messo. Il secondo è un altro tema cruciale per i freelance, i soldi, perché sai con il lavoro dipendente, con le trattenute in busta paga, con il fatto che arriva la mensilità periodica eccetera, è un pochino diverso il discorso dei soldi. Con il mondo dei freelance, il pagamento delle tasse, l'assenza d'IVA o l'IVA a seconda del regime fiscale, insomma gli acquisti e tutto quanto, può diventare davvero un bel problema, soprattutto se non siamo così portati al risparmio. I principi che ci portiamo a casa da questo libro sono questi. La psicologia dei soldi. Sì, infatti non l'ho detto, scusate, ho lasciato la come. La psicologia dei soldi che tra l'altro mi è arrivato come consiglio dopo aver guardato un webinar di una consulente finanziaria, quindi è un suggerimento proprio da una professionista che tratta di soldi, quindi i fatti poi l'ho trovato veramente molto, diciamo, azzeccato, anche se parla anche del mondo degli investimenti, chiaramente, però dà alcune riflessioni proprio sul nostro rapporto con i soldi. La psicologia dei soldi, perché noi, ognuno di noi non è un foglio Excel, quindi non possiamo basare ogni decisione economica semplicemente, diciamo, su una tabella, ma ci portiamo dietro il nostro carico di comportamento, di abitudine, di come siamo, delle esperienze che abbiamo vissuto, quindi il mio rapporto con i soldi non può essere uguale a quello di qualsiasi altra persona e viceversa, quindi ognuno di noi ha un approccio diverso. È importante sapere il concetto di abbastanza per noi, cioè quanti soldi ci servono, nel senso, proprio nella nostra vita di freelance, per portare avanti la nostra vita, la vita che vogliamo vivere, la vita della nostra famiglia, eccetera. Dobbiamo avere bene in mente il concetto di abbastanza, per non rischiare sempre di rincorrere una pallina che si spossa sempre un po' più in là nello spazio e nel tempo, quindi ecco, avere bene in mente quello che ci serve e quindi, di conseguenza, sapere quando dobbiamo fermarci, perché sennò il rischio è davvero è quello sempre di mirare sempre un po' di più, quello che si dice scala il business, guadagna fattura, sì, poi certo, faccio tabula rasa di tutto e non mi godo neanche il percorso o il viaggio, quindi cercate di avere bene in mente il concetto di abbastanza legato alla possibilità di fermarvi. Abbastanza non vuol dire poco, vuol dire quello che è abbastanza per noi, cioè quello che ci fa, ci dà soddisfazione nella vita. E anche qua la fatturazione, quindi guadagnare i soldi è un conto, poi però bisogna capire come conservare questi soldi, quindi c'è tutto un ragionamento legato al risparmio. Una cosa fondamentale è che a volte siamo più portati e portati a risparmiare per un obiettivo, per la macchina, per un investimento, per una macchina fotografica, per un viaggio, per qualsiasi cosa. In realtà, soprattutto come freelance, ma non solo, dobbiamo imparare a risparmiare per il, cioè per il, cioè semplicemente per risparmiare, soprattutto se siamo all'inizio del nostro percorso, se abbiamo l'idea di cambiare, per avere dei cuscinetti che ci aiutino proprio a tollerare quello che potrebbe anche andare storto, e qui mi collego all'ultimo punto, proprio perché un piano che facciamo, quindi la nostra strategia, non può far finta di niente, non può pensare che tutto vada bene, è impossibile, la vita stessa è piena di incognite e di incertezze, quindi il nostro piano deve, nei limiti del possibile chiaramente, tenere conto anche dei possibili problemi che arriveranno, quindi più risparmi abbiamo, più riusciamo a prendere decisioni migliori e così via, quindi è tutto un discorso legato appunto alla psicologia dei soldi. Prossimo? Il terzo libro, Semina come un artista, questo è un libro molto molto famoso che è collegato all'altro, al precedente, che è Ruba come un artista, questo l'abbiamo selezionato perché, allora, per quanto mi riguarda è molto in linea a quello che dice spesso Andrea nei suoi video, quindi la capacità di far conoscere quello che facciamo, di condividere proprio il nostro lavoro e i principi che arrivano da questo libro sono questi, perché una delle domande più ricorrenti riguarda appunto i clienti, cioè come faccio sapere al mio pubblico, al mio target, quello che so fare, cioè come faccio a farmi conoscere, come faccio a trovare clienti. Questo manuale è fatto proprio per questo, a far capire alle persone come possono seminare il proprio lavoro senza disperderlo, senza rovinarlo, proprio per attirare, per farsi conoscere, attirare le persone giuste, chiaramente anche il contrario, allontanare invece le persone che non sono in linea con il nostro lavoro o quello che pensiamo. Quindi ecco che non basta far bene il proprio lavoro, cioè essere bravi non basta più, bisogna fare in modo che le persone riescano a trovarci, a sapere che esistiamo in qualche modo, quindi qui ci colleghiamo poi naturalmente al discorso del personal brand, della condivisione, dei contenuti e così via. Va sperimentato, cioè non possiamo sapere cosa ci piace, come rendiamo con i contenuti, con le condivisioni eccetera, se non usiamo la nostra voce, cioè se mano a mano non mettiamo in atto una serie di prove, di sperimenti eccetera. Soprattutto se siete dall'inizio è un grosso vantaggio, perché molto probabilmente avrete anche un pubblico ristretto di persone che vi seguono e questa è una cosa meravigliosa, perché avete la possibilità di testare formati, prove dei contenuti, riassunti, condivisioni, ispirazioni, qualsiasi cosa semplicemente per il gusto di provarci con un pubblico ristretto. Io ho fatto veramente non so quanto tempo ad avere dei like di parenti, di amici o altro, quindi diciamo va bene così, è bellissimo proprio per questo, perché avete la possibilità di sperimentare. E il successo istantaneo è un mito assoluto, cioè succederà per carità, ma non è così diffusa come cosa e non dovrete nemmeno puntare a questo secondo me, cioè non è questo il fine del percorso di costruzione di una sana vita da freelance, ecco. soprattutto se vuoi che qualcuno ti segua, cerca di essere la prima persona interessante da seguire, quindi fai in modo proprio di essere una persona curiosa, di immergerti nel tuo campo, nelle tue materie, in quello che ti accende gli occhi, in quello che scatena in te la passione. Più riuscirai a comunicare quello che per te è passione, più riuscirai ad attirare persone che la pensano come te, quindi in linea con il tuo lavoro. E il quarto libro, questo è proprio un pietrone nella storia dei manuali, detto fatto di David Allen, è diciamo uno dei primissimi libri, perché la prima versione credo che sia stata pubblicata nel 2000, 2001, quindi ormai parliamo davvero di 20-24 anni fa, all'incirca più o meno, ed è davvero un manuale che è ancora valido, nonostante il tempo, e credo che abbiano fatto una versione, adesso non mi ricordo qualche anno fa comunque, hanno rivisto alcune cose. Però si tratta praticamente della spiegazione di un metodo, il metodo GTD, get these things done, quindi l'arte di ottenere le cose completate in sostanza, la traduzione in italiano è stata fatta con detto fatto appunto, e i principi sono questi. in pratica non basta la ricerca dello strumento, del metodo, del calendario, eccetera, bisogna avere la logica dietro, il perché, il principio che c'è alla base di un metodo, perché se non abbiamo quello, se non abbiamo il perché, il come non reggerà, cioè dobbiamo portare avanti entrambe le cose, il perché, il come, e questo libro lo spiega molto bene con questi due principi messi in evidenza. Bisogna avere bene in mente cosa significa fatto, cioè che cosa è portato a termine per noi, cioè il traguardo qual è, cioè quando per noi un progetto è concluso, un'attività è conclusa, e poi che cosa significa fare, quindi come faccio ad ottenere quel traguardo, qual è l'azione o le azioni che mi consentono di raggiungere quello scopo, quell'obiettivo, quell'attività spuntata, sempre abbinando il perché al come. I metodi, perché è importante studiare un metodo, uno o più metodi, intanto perché, cioè non è che sono stati inventati così a caso, ma perché proprio ci aiutano a gestire meglio le nostre giornate, ma perché riducono la reattività, cioè nella vita da freelance soprattutto, non possiamo vivere la nostra quotidianità con la reattività a mille, cioè gestire l'ultima cosa che arriva, rispondere all'ultima richiesta del cliente, mandare tutto all'area la pianificazione perché bisogna andare su quella cosa lì, la frammentarietà delle giornate legata alla reattività è un mix bicidiale per non portare a termine le cose, quindi ecco che un metodo ci salva dalla reazione e quindi andiamo invece verso l'azione proprio specifica. Vi ho riportato i punti di questo metodo che il fine qual è liberare la mente, cioè se io ho un metodo che mi consente di avere un luogo dove svuotare proprio la mia mente di tutti quegli input che mi arrivano durante il giorno, attività, richieste, domande, dubbi eccetera, io non ho più l'ansia di dovermi ricordare le cose, ce le ho tutte in un raccoglitore, la cosiddetta inbox, diciamo l'area, una zona, un cestino grosso che raccoglie tutte le cose che poi chiaramente non basta accumulare, dovrò esaminare e quindi fare chiarezza, significa che una volta che ho raccolto tutto il materiale poi dobbiamo diciamo capire che cos'è, magari alcune cose se ne andranno, come sono arrivate se ne andranno, altre invece dobbiamo identificarle e decidere cosa fare in quel momento, che non vuol dire occuparsene subito, ma almeno decidere se è rilevante per noi come cosa, come attività. Poi organizzare, organizzare significa dare una casa a ogni cosa, quindi scegliere i contenitori giusti anche in ambito digitale, non c'è nessuna differenza in questo caso tra il mondo fisico e il mondo digitale, quindi dobbiamo sapere dove si trova quella cosa lì rispetto alle attività da portare a termine, rispetto alla chiarezza che abbiamo fatto. Poi dobbiamo chiaramente fare, perché a un certo punto possiamo ragionare quanto vogliamo poi dobbiamo metterci all'azione e poi è molto importante abbinare l'azione alla riflessione, quindi andare a vedere quello che ha funzionato, quello che è andato fuori controllo e così via. Quindi questo è un libro sempre verde, mi verrebbe da dire, perché ormai ha retto davvero a tanti tanti anni di pubblicazioni. Ed è anche, devo dirti, l'unico libro di questo elenco che io ho letto ormai molto tempo fa e che effettivamente mi ha cambiato la vita. Ahimè, purtroppo ha un'impostazione effettivamente un po', diciamo così, americana, un po' da manuale, che è una cosa che forse oggi per certi versi rinnego, ma devo dirti che dal punto di vista dei consigli pratici è ancora immortale, nel senso che effettivamente io, pur non utilizzando il metodo GTD, utilizzo tantissimi dei consigli che ho trovato lì sopra, che sono ancora davvero super attuali ed effettivamente migliorano di tanto la mia produttività. Ultimo libro? Assolutamente, sì, assolutamente. L'ultimo libro ci colleghiamo all'atto di svuotare la mente, più o meno, perché infatti l'autore che adesso vedremo si collega, fa dei riferimenti a David Allen ed è uno dei miei miti. Subito dopo Andrea Civaulo arriva Tiago Forte. Ok, ti ringrazio per aver precisato la classifica perché se no ci sarei rimasto malissimo. No, no, sei il primo in classifica, confermo. Al secondo posto abbiamo Tiago Forte con il tuo secondo cervello. Il second brain, anche molto conosciuto col termine in inglese, e in pratica è un metodo che appunto si basa sempre sull'approccio di svuotare la mente, cosa che vi assicuro che è fondamentale mettere semplicemente l'atto di scrivere le cose che abbiamo in mente, ci porta a questi principi. Allora, diciamo che qui siamo più sul concetto di conoscenza, nel senso che il rischio per il freelance è quello di continuare a cercare informazioni su come avviare il lavoro, su come portare a termine l'attività, su come fanno gli altri, come fare un corso, eccetera, di continuare a salvare cose, cose che magari in quel momento piacciono o si pensa di utilizzarle in seguito, ma poi alla fine si riempiono magari Excel, cartelle preferiti del browser, aggregatori, di cose che non si rivedranno mai più. Quindi è importante, diciamo, aggiungere cose, quelle che per noi sono rilevanti, ma è anche importante rivederle queste cose, quindi poi a un certo punto rimuoverle, se non sono così rilevanti per noi o se a un certo punto le abbiamo assimilate, fatte nostre, ma poi basta, cioè via. Quindi il sovraccarico digitale è molto pericoloso se non gestito bene. Vi assicuro che riguarda file, cartelle, note, immagini del telefono, qualsiasi cosa. La vita digitale ha un peso, cioè anche se materialmente non la vediamo. Nella nostra mente vi assicuro che tutto questo peso c'è e si fa sentire. Quindi non dobbiamo essere solo degli accumulatori e questo libro vi accompagna proprio anche qua a seguire più o meno delle riflessioni, perché questo è molto riflessivo, cioè c'è dei suggerimenti pratici, è comunque un manuale, però il vero manuale più pratico è il secondo libro che ha fatto, Para, che non l'ho messo qui, però è collegato sempre a quest'autore, è più pratico, ecco. Secondo me una combo di questi due libri vi dà una panoramica fantastica su come gestire la vostra vita digitale, ecco. Che bello, Deborah. E poi mi permetto di dare un consiglio bonus, un piccolo consiglio bonus. Non so se tu hai mai letto questo di libro, Deborah. Non lo conosco. Ok, ok. Ho insistito perché Deborah inserisse questo libro nel suo elenco, lei si è rifiutata, io allora lo metto a tradimento, così impara a non eseguire le mie indicazioni. L'arte di organizzare la scrittura online è un bel libro, secondo me è molto pratico e molto utile, che ha scritto la qui presente Deborah Montoli e che onestamente, cioè al netto della promozione che mi fa piacere fare, credo che sia davvero uno strumento super efficace, se tra le cose che fate per promuovervi c'è anche la scrittura online. Secondo me è davvero un ottimo manuale, ma anche proprio pratico in ottica della nostra masterclass, per cui lo metto io di ufficio e di diritto all'interno di questo elenco. Troverete tra l'altro tutti questi libri nella descrizione di questo video, se volete dare un'occhiata metto i link affiliati di Amazon, così se utilizzate quelli a voi non cambia nulla da un punto di vista economico, ma date anche un piccolo supporto al mio, al nostro lavoro di divulgazione, insomma. e se volete avere a che fare con noi ulteriormente, beh, la masterclass Lavora come un drago potrebbe essere la scelta giusta, perché è un percorso che abbiamo pensato insieme a Deborah, che se ne sta andando nel frattempo, siamo a Deborah che scompare. Eccola qua, eccola qua. Sì, è un percorso che abbiamo pensato, sarà dura cercare di essere serio a questo punto. L'idea è quella di prendere persone che lavorano da dipendenti e sono insoddisfatte del loro lavoro, oppure stanno costruendo un percorso lavorativo indipendente, o lo hanno già costruito e vogliono migliorare le loro competenze operative, organizzative e strategiche, e quindi sostanzialmente ottenere più risultati. Vi portiamo la nostra esperienza, lo facciamo in circa quattro orette, abbiamo previsto in diretta su Zoom, se riuscite a partecipare, e in quel caso avete la possibilità anche di fare le vostre domande e di interagire con noi, oppure, se volete seguirlo successivamente, potete farlo con i vostri tempi, anche a pezzettini, sezione per sezione. E a proposito delle sezioni che compongono la Masterclass, vi leggo quelle più rilevanti, così che abbiate un'idea più o meno di quali sono gli argomenti di cui si parlerà. Abbiamo la definizione della mappa del percorso, la roadmap, quindi darsi gli obiettivi e spacchettarli in piccoli passi per poi raggiungerli. Abbiamo il calcolo dei prezzi, delle tariffe e dei propri servizi, che è una delle cose in assoluto che più viene richiesta. La domanda classica è Andre, quanto devo farmi pagare? E la risposta, la sapete se avete seguito anche gli altri video, la risposta è devi farti pagare di più di quanto già tu stia facendo. Poi ci chiediamo dove trovare i clienti ma soprattutto dove trovare quelli giusti in linea con le nostre modalità e con i nostri valori, come fare un preventivo che abbia più probabilità di essere accettato, un accenno ai contratti, come gestire il tempo e le priorità, cioè Deborah ci insegnerà in questo caso tutte le cose che hai imparato dai libri che vi abbiamo citato, come gestire i progetti, come gestire le scadenze, quindi project management e infine come comunicare meglio con i clienti in modo da rendere più felici loro e meno stressati noi. Questo è quello che troverete nella Masterclass, se volete delle ulteriori informazioni le trovate nel link qui sotto in descrizione. Deborah, io ringrazio te per averci raccontato questi libri che mi hanno fatto venire una gran voglia di leggere. Grazie, grazie a te e grazie a voi. Se avete altri libri chiaramente fare la selezione è stato davvero difficile, quindi se avete dei libri soprattutto per freelance da consigliare fatelo nei commenti e non li leggiamo volentieri. Bello, con grande piacere se aggiungete valore a questo video con i vostri commenti e i consigli di lettura saremo super super contenti e allora vi ringraziamo, mettiamo anche i contatti di Deborah nella descrizione di questo video, vi mando un grossissimo abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao! Grazie a tutti!